Proseguiamo lo studio della storia dell'architettura del Quattrocento in Italia centrale con l'analisi dell'opera e la conoscenza di un grande architetto, studioso e scrittore, è un grande teorico dell'architettura e dell'arte rinascimentale che è Leon Battista Alberti, il quale nasce a Genova perché la sua famiglia fiorentina era stata esiliata e muore a Roma intorno al 1470, nasce nei primi del Quattrocento. È quindi collega e contemporaneo di Filippo Brunelleschi che conosce e del quale apprezza e condivide le innovazioni e gli studi, anzi egli come Piero della Francesca le racchiude in alcune pubblicazioni, in alcuni libri sull'arte e sull'architettura, in particolare i suoi libri sono dodici, in cui proprio ne formula, come Piero della Francesca, una teoria. Nelle sue opere diciamo che Leon Battista Alberti è principalmente un teorico, quindi egli spesso si ferma al progetto dei suoi capolavori e non esegue, come invece fa Filippo Brunelleschi, la realizzazione. È un grande conoscitore studioso, nonché ammiratore, dell'arte romana e dell'architettura romana. E così come fa Brunelleschi cerca di recuperare la monumentalità e la maestà, ma anche la sobrietà, la dignità, la razionalità di questa architettura. Anche egli usa un modulo, il modulo quadrato, per organizzare gli spazi e le singole parti della sua architettura, sia innalzato, sia in pianta, in modo di dare rispondenza proporzionale a tutte le parti dell'edificio, sia tra loro, sia tra queste e l'architettura nella sua completezza. Nella metà del 1400 Sigismondo Pandolfo Malatesta, che è signore di Rimini, affida a Leon Battista Alberti la ristrutturazione della chiesa di San Francesco, che è un'antica chiesa gotica della città, che Pandolfo Malatesta vuole ristrutturare al fine di trasformarlo nel santuario della sua famiglia, ma anche nel suo grande mausoleo, proprio per le tombe della sua famiglia, e quindi lo vuole trasformare in quello che sarà conosciuto come Tempio Malatestiano. Alberti certo non poteva intervenire sulle strutture già esistenti, e allora che cosa fa? Incapsula la chiesa, praticamente la racchiude dentro un'altra architettura, quindi ricopre la facciata preesistente, ne sovrappone un'altra con un rivestimento di marmo che nella forma prende ispirazione dagli archi di trionfo dell'antica Roma. E' facile, guardando questa facciata, tornare con la memoria all'arco di Costantino, all'arco di Settimio Severo, all'arco di Tito e agli altri archi di trionfo. Tra un arco e l'altro inserisce delle semicolonne corinzie. Vi ricordo che la colonna corinzia è contraddistinta sia dalle scanalature, ma l'elemento visivamente più rilevante, e quello che le dà una connotazione da subito riconoscibile è il capitello con le foglie di acanto stilizzate. Sopra al portale d'accesso, subito, predispone un timpano triangolare. Sulle fiancate della chiesa, che cosa fa? Ricordando gli acquedotti romani e anche il Colosseo, realizza una successione di arcate intervallate da grossi pilastri quadrati. Dietro gli archi si vedono le finestre gotiche della chiesa preesistente. In posizione che però non è centrata rispetto agli archi. Alberti infatti sceglie proprio per muoversi con un linguaggio moderno e contemporaneo al suo tempo, e quindi con il linguaggio rinascimentale, ho detto prima, di non tenere conto della preesistenza, che si limita proprio a contenere dentro questa nuova struttura. Vuole dare infatti all'edificio un aspetto completamente rinascimentale e nuovo. Un altro edificio che viene ristrutturato e questa volta completato in facciata da Leon Battista Alberti è la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Alberti qui decide di tenere conto, anche perché non poteva fare altrimenti, della preesistenza e della parte già realizzata, che era quella della parte inferiore della facciata, comprendente il portale, quella di etagotica. e quindi che cosa fa? Si stacca da questa parte preesistente inferiore, che come vediamo ha tre portali di cui uno centrale e gli altri due laterali più piccoli, con una partitura alle sene che divide la facciata in rettangoli, nei quali sono iscritti dei disegni geometrici realizzati con lastre di marmo bianco di Carrara in contrasto con il verde serpentino di Prato, che creano dei disegni geometrici come se fosse la proiezione ortogonale delle arcate che sono all'interno della chiesa. Alberti che cosa fa? Costruisce, realizza una fascia orizzontale che separa la parte inferiore della facciata dalla parte superiore che è quella di Alberti, compresa la fascia, nella quale inserisce con un ritmo regolare dei quadrati con una rosetta al centro e costruisce sopra un grande timpano realizzato con una parte rettangolare divisa in tre parti, due rettangoli laterali più piccoli e uno più grande al centro che risulta essere realizzato raddoppiando uno dei due rettangoli laterali che sono separati dalle sene ricoperte da marmo a strisce orizzontali bianche e verdi e sopra un grande timpano. Per raccordare questa parte rialzata centrale con le parti laterali realizza quella che è la sua soluzione più raffinata e che verrà ripresa in tutte le chiese dall'epoca di Santa Maria Noella a seguire, siamo circa nel 1468, sono le volute di raccordo, bellissime, e quindi le volute di raccordo, queste volute, questi raccordi quindi sono pensate come delle curve che si collocano ai lati di questa parte rialzata e la raccordano elegantemente con la sporgenza della parte inferiore. In questo modo ammorbidisce lo schema un po' rigido e geometrico della facciata a salienti, quindi con il tetto spezzato, che era tipica del romanico. mantenendo dalla tradizione romanica toscana appunto invece il disegno, la soluzione decorativa di appunto apporre sulla facciata lastre di marmo a contrasto che creano dei disegni geometrici, in questo caso bianco di Carrara e serpentino verde di Prato. È tipicamente rinascimentale anche l'uso del modulo quadrato per stabilire le dimensioni di ogni parte della facciata e della facciata stessa nel suo insieme.